Due nuove isole ecologiche nella città di Chieti, nel quartiere Sant'Anna, nella zona di via Colonnetta. A breve ce ne sarà anche una terza. Assessore Zappalorto, da questo punto di vista state lavorando per garantire servizi efficienti e veloci alla cittadinanza? E' uno dei primi obiettivi che ci siamo posti, quello del decoro urbano e quindi la lotta all'abbandono indiscriminato dei rifiuti lungo le strade. In questi giorni di sopralluoghi continui anche il posizionamento di queste due nuove isole presto di una terza credo sia fondamentale proprio per andare incontro ai cittadini per offrire un servizio ulteriore molto semplice da usare perché basta la tessera sanitaria come tutte le altre isole già presenti sul territorio per accedervi e per conferire lì i rifiuti. State anche pensando, come dicevamo, ad una terza isola ecologica? Avete già in mente la zona e il quartiere della città? Stiamo ragionando per una serie di motivi logistici perché chiaramente le isole sono alimentate ad energia solare quindi va trovata una posizione assolata e per consentire di coprire un'ulteriore parte della città per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Vogliamo spiegare un po' nel concreto cos'è un'isola ecologica e qual è l'utilità di avere in città le isole ecologiche? L'utilità è che innanzitutto si può conferire alle isole ecologiche in qualsiasi ora del giorno quindi appunto basta la tessera sanitaria e quindi proprio per facilitare anche la raccolta differenziata un'isola ecologica è suddivisa così come sono suddivisi i nostri bidoni per intenderci che abbiamo sotto le nostre case quindi ci si può andare in qualsiasi ora del giorno a conferire l'immondizia.